Certamente entrare dalla porta non è la migliore delle idee. Passiamo dalla finestra. Ecco qua. Allora, fammi vedere. Lì c'è gente, quindi mi conviene... L'Oder Re Kamushida, a morte gli intrusi. Ma che diavolo? Beh, era ovvio che non saremmo passati di lì. E guardate, quello non è... Gli intrusi dell'altro giorno sono stati un palesibile... un passabile svago, scusate. Ma non posso permettere a dei rifiuti di frugare nel mio castello. Rafforzate la sicurezza. Uccideteli. Ricompenserò chi mi porterà le loro teste. L'Oder Re Kamushida. A morte gli intrusi. Beh... Ehi Mona, non potremmo semplicemente pestarlo per bene e farla finita? Guarda quanti soldati, idiota. Sarebbe un suicidio. Non credo tu voglia finire come la volta scorsa. Se avessi le mie persone, vedresti come li affronto tutti quanti. Inoltre, non vuoi che ti confessi i suoi peccati? Non ha senso pestarlo. Dobbiamo rubare la forma materiale dei suoi desideri. Il tesoro. Va bene. E dov'è? Deve essere da qualche parte nelle profondità del castello. Addentriamoci ancora, mentre lui è là fuori. Va bene. Addentriamoci. Eh, guarda un po' un'ombra. Eh, che è stato? Maledizione. Anche qui c'è una guardia. Ma va? Che facciamo? Lo prendiamo a calci? Ovviamente. Un momento. Mmm, potrebbe essere l'occasione giusta per insegnarvi una cosa. Ok Joker, sei pronta all'azione? Assolutamente. All'attacco! Ricordi che ti ho parlato di rapine assalti? Ora ti insegnerò a usarli nella pratica. Con una rapina puoi fare ben più che sconfiggere semplicemente un nemico. Le ombre sono esseri nati dal cuore della gente, perciò è naturale che possano parlare. In altre parole, è possibile comunicare con loro, chiaro? Se parli con loro quando sono in difficoltà potrebbero offrirti oggetti o denaro, dato che non vogliono morire. In effetti è più probabile ottenere una buona ricompensa parlando con loro che facendo semplicemente fuori. E questo è vero, inizialmente evitavo di uccidere la qualsiasi pur di fare un sacco di soldi. Bene, allora facciamo il primo passo. Atterra tutti i nemici ed esegui una rapina. Nanana, schibi bambini. Madonna, 2,49. Davvero? Voi siete gli intrusi di cui parlava Rekka Moshida. Peggio di così non può andare. Cosa ne sarà di me? Dammi dei soldi. Eh? Mi lascerete vivere se vi do dei soldi? Beh, qualcosa del genere. Che si tratti di denaro oppure oggetti. Ora sborsa. Ma è successo tutto così in fretta. In effetti non ho nulla con me. Di solito qualcosa ce l'ho, sai? Eh, come? Non è così che volevo andassero le cose. Beh, se le cose stanno così non ti resta altro che fare che andare al diavolo. Aspetta! Scusa, ma siamo di fretta? No, aspetta! Non possiamo metterci d'accordo? Non uccidermi, per favore. Perché non mi lasci andare? Va bene, vattene. Sei il tipo che non dice mai di no? Capisco perfettamente come ti senti. Io sono come te. Wow, che sensazione! Sta succedendo qualcosa! Ma che... cosa succede? Oh sì, adesso ricordo. Io non appartengo solo a Rekamoshida. Sono un'esistenza che naviga nel mare dell'animo umano. Il mio vero nome è Pixi. Dio mio, c'ho le brividi. Io sono Pixi. D'ora in poi vivrò nel tuo cuore. E diventò una maschera che io catturai. Pam, pam. Ma cosa... Come è successo? Guarda il muro. Tutto un... Stranito, Dio mio. Che diavolo è successo? Il nemico è stato risucchiato dalla maschera di Joker. Non ne ho idea. Ha colto di sorpresa anche me. Eh, altri ladri. Int... intrusi? Fermi! Merda, ci hanno visto! Ma va? Adesso mi trasformo... In un caprone. In un caprocavallo. Caval capron. Caval capron. Allora, sento di me una nuova possibilità che scattolisce dall'ultima battaglia. E noi abbiamo l'abilità di cambiare le persone. E questa è il fondamento di tutto il gioco, insomma. E Pixi conosce zio. Beh, anche io conosco suo zio. E' un tipo simpatico. Quello... Quella è l'ombra di prima. Guarda che roba. Hai appena assunto l'aspetto i poteri dell'ombra sotto forma di persona? Eh, vai di nuovo di zio. Tutto morto. Cielo. Questo vuol dire che tu puoi evocare più di una persona? 300 yen, Dio mio. La povertà in tutto questo. Ehi, Mona. Che diavolo è successo? Che ha fatto, Joker? Ha sigillato nella maschera l'aspetto e i poteri del nemico, mutando in una nuova persona. E' davvero possibile? Non ho mai visto nessuno riuscirci. Io sono speciale. Io e tutti gli altri protagonisti degli altri persona. E' una cosa buona? Certo che sì. Ogni individuo ha solo un cuore. Quindi normalmente si può avere solo una persona. Incredibile. Un'abilità come questa offre un vantaggio tremendo in battaglia. Ed è vero. Ok. Se ci si presenta l'occasione, fallo ancora. Renditi utile anche tu, Skull. Sì, cavolo. Li faremo a pezzi. Beh, è probabile che prima li ammazziamo prima di catturarli, visto il nostro potenziale. Però, va bene così. Ora mi piace ancora di più. Ho per le mani qualcosa di molto speciale. Eh già. Sono una persona molto speciale. Io e le mie altre persone. Ecco qua. Ryuji ancora non l'avevo cambiato il suo equipaggiamento. Ed ecco a te un bel po' di armi migliori. Anzi, sai che ti dico? Visto che per adesso... No, vabbè, infiam... Vabbè, in realtà mi cambia realmente poco. Posso avere anche questa che è un po' più debole. Tanto questa ha la potenzio, quindi... Ryuji, non mi ricordo cosa ti ho dato. Se non ricordo male, il teschio di cristallo, anche a te. E visto che adesso tu hai recuperato tutti gli SP, ti do anche a te il teschio di cristallo, mona. Avere il teschio di cristallo, come vi ho già detto, cosa comporta? Un bel boost iniziale nelle statistiche, che ora come ora sono tutte bene o male allineate. Come potete vedere. Però più avanti, alcune statistiche saranno migliori di altre. Quindi avere un bel boost come questo non è certo male. E proseguiamo la nostra avanzata. Vediamo dove finiremo oggi. Allora, qua è tutto chiuso e non si può passare. Quindi, passando da questa porticciola, arriviamo in quella che penso sia l'armeria. Un forziere? Perché non lo scassiniamo? Beh, sarebbe un'idea. Attacca. Perfetto. Attaccare alle spalle è sempre il modo migliore per iniziare. Uh. Beh, penso che posso anche menarvi direttamente, che almeno risparmi un po' di punti, dai. Sono fin troppo potente e tanto queste battaglie volano via che è un piacere. Il bello del New Game Plus, eh. Abbiamo imparato Patra, che cura le vertigini. Beh, nulla di molto utile per ora. Ok, gli altri nemici dove sono? Uno è lì e uno è là. Ok. Mi nascondo dietro il muro. E attacco. Non il muro! Ah, un altro caprone, eh? Beccati questo colpo! Uh, pensavo che l'avrebbe ucciso. Fighissimo quel fucile a pompa, tra l'altro. È la prima volta che lo vedo. Perché l'ho fatto e non ho avuto neanche il tempo di provarlo, devo essere sincero. Ci nascondiamo qua dietro. Aspettiamo che il signorino si gira e lo attacchiamo. E apriamo anche quel forziere e vediamo che cosa c'è. Mmm, chi attaccherà per primo? Scalper, che è il più veloce. Ecco qua, il prossimo invece è Mona. E siamo riusciti a mettere a fuoco il nostro bicorno. Però, tacchete! Un bel colpo di crocifisso in faccia ed è tutto finito. A fondo, bene. Beh, su una nave effettivamente nome migliore per una mossa non ci stava, eh? Eh beh, una passeggiata. Grazie, Scal, con la roba che ti ho dato. Pugnale d'argento, Dio mio. Forse è un po' tanto indietro rispetto all'arma che sto usando. Oh, ecco un'altra porta nebulosa. Deve essere quella roba. Ehm, com'è che si chiamava? Una safe room. Qui possiamo pianificare le prossime mosse. Ci sono tanti posti che non conosco nemmeno io. Ok, facciamo... Ah no, guarda chi arriva. È lo stesso posto di prima. Che diavolo è questa app? Mi è bastato ripetere le parole che ha detto Sakamoto e mi sono ritrovata... Principessa? Eh? Principessa! Dio mio, non posso fare gli urli femminili così. Non ci sono più ombre. Non ci sono più ombre dell'ultima volta. Sull'arrivare fin qui è stata una gran rottura di palle. Ma non è vero, ti ho droppato una delle armi più forti che puoi usare, santo cielo. È perché avete provocato Kamoshida. Tuttavia sembra più sulla difensiva di quanto dovrebbe. In ogni caso, come dovremmo fare per rubare il tesoro? Non essere precipitoso. Innanzitutto dobbiamo aprirci un percorso di infiltrazione sicuro. Un che? Un percorso fino alla stanza del tesoro. Ma onestamente temo che ci servirà qualcuno di più per farcela. Come minimo un'altra persona farebbe comodo. Ha detto di aver perso la memoria e di compagnia bella. Eppure ti ricordi tutte queste cose. Credi che abbia davvero un'amnesia? E sospetto mi fido di Mona. Sì. Almeno tu sei un passo avanti a quell'idiota. Non darmi dell'idiota. Tu parli tanto, ma se alla fine si scoprisse che sei soltanto un gattaccio randagio? Non può essere. Ma perché la principessa si trovava in un posto così strano? Principessa? Avrei giurato che stessimo seguendo le tracce di un intruso? Ora ha poca importanza. Dobbiamo riportarla da Re Kamoshida. Chi è questa principessa di cui stanno parlando? Vado a dare un'occhiata. Ed ecco un'altra domanda senza risposta. Roba tipo il castello e l'app navigatore sono misteriose. Ma Morgana le batte tutte. Ricordati i nomi in codice. Vuoi dire Mona, vero? Ricordati i nomi in codice, Skull. Merda, scusa. Che diavolo ero io? Ah già, ma dai, te lo sei dato da solo il nome e te lo dimentichi? È un disastro! Sei stata una scheggia! La vostra amica, Lady Anne! È stata catturata dalle ombre! Aspetta, cosa? Ma l'avevamo rimandata a casa! Se però anche Lady Anne è all'app, sarebbe possibile! Ma no! Non ditemi che se l'hai ritrovata sul telefono come è successo al sottoscritto! Merda! L'avevamo fatta uscire per la sua sicurezza e è tornata qui per conto suo! Pam 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 pam! Dannazione! Non abbiamo tempo per riposare! Dobbiamo andare subito a salvarla! Sì, ma prima un salvataggio! Io lo dichiaro necessario! Ok, usciamo di qua ragazzi! Seguitemi! Vi guiderò io! È subito dopo quella specie di sala da pranzo! Andiamo! Quindi non da qua! Ok, proseguiamo! State girando un film? Chi è il responsabile? Oh no! Anna è stata catturata! Dobbiamo sbrigarci! Eccoci qua! Ah! Da questa parte! L'avevo capito, grazie! Oh no! È caduto! Ascoltate, mi scuso per aver toccato l'armatura senza permesso! Non ho idea di cosa stia dicendo! Presto, dobbiamo salvarla! Andiamo! Entriamo e facciamo tutto! Sei pronto? Assolutamente! Ok, andiamo! Pam pam! Cos'è questa storia? Sul serio, chiamo la polizia! Dunque, ecco l'introso! Kamoshida? Tan tan tan! E lei chi è? Ma soprattutto, cos'è questo posto? Perché la scuola si è trasformata così? Non posso credere che abbiate confuso la mia Anne con una così! Una sciacquetta! Hai paura? Ma come è vestito? È impazzito! Faccio quel che voglio qui! In fondo è il mio castello! Il mondo dei miei desideri! Ma che? Aspetti! Siamo in una specie di quartiere a luci rosse! Più o meno! Che schiavetta vivace! Non è divertente! Basta con queste stronzate! Kamoshida! Ammazzatela! La ragazzina ha deciso di rimproverarmi! Che ne pensi? Rispondere male è tipo assolutamente imperdonabile! Mamma mia! Maniaco, zozzo, schifoso! In tal caso deve essere giustiziata! E arrivo io con la spada d'oro! Vediamo! Come posso divertirmi con te! Dovrei farti a pezzettini! Sta scherzando! Madonna! È una cazzo di follia! È così che vede le ragazze della squadra di pallavolo! Maniaco, zozzo, schifoso! Ehi, quella è... Takamaki! Proprio quando stavo per inizia a divertirmi! Che diavolo gli è preso? Razza di... Quante volte ancora vi avrò tra i piedi? Scommetto che sei proprio come quei ladri! Sei venuta qui per essere arrabbiata con me, eh? Ah, mi sono scordato il nome di quella bambolina! Ma è colpa... Colpa tua se si è buttata! Eh? Eri così riluttante all'idea di saltarmi addosso che ho dovuto farle prendere il tuo posto! Madonna mia, schifoso! Brutto bastardo! No! Fai un altro passo e la uccido seduta a stante! Maledizione! Sedetevi comodi e godetevi lo spettacolo del suo smembramento! No! Non farlo! Forse è meglio che cominci dai vestiti! Madonna mia! Uno sguardo peggiorno glielo potevano fare! Dannazione! Sei proprio un pervertito! Ehi, che facciamo? Takamaki! È il mio castigo per quello che è successo a Shino! Shio! Ecco! Avresti dovuto avere questo atteggiamento fin da subito! Shio! Perdonami! Non arrenderti! Eh? Hai ragione! Permetterà questo pezzo di merda di divertirsi con me! Che mi passa per la testa? È quel che dico sempre! Gli schiavetti dovrebbero pensare solo a comportarsi bene e... Silenzio! Ne ho abbastanza! Mi hai proprio fatta incazzare figlio di puttana! Mamma mia! Che bello che lei è l'unica legata in questa situazione mentre succede questa roba! Nanji Wanaru! Bello! Bella anche lei! Le scene del risveglio sono sempre meravigliose! Tutte meravigliose! Poi lei è l'unica vestita di latex, santo cielo! E via la sua cognizione! Che poi lei sarebbe stata benissimo con uno spadone, però... Non sarebbe stato in linea col personaggio, lo ammetto! Pam-para-pam! Oh no! È un tizio sul cesso! Pam-pam-pam-pam-pam! Una bella gattona lei, eh! Ah, santo cielo sto nemico però! Come osi negare il tuo amore a Reca Moshida, panciulla egoista! Pagherai per questa insolenza con la tua vita! Quel maiale considera le donne come puri oggetti sessuali! Non farmi ride con queste scemenze sull'amore! Avanti, Carmen! Facciamogli vedere! Pam-pam-pam! Un bel colpo di fuoco che la sua debolezza... E distruggiamolo, ragazzi! Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam! Morto? No, di pochissimo! Eeeh... Ma sì, dai! No, come? Vabbè, dai! Con un colpo di pionda! E pensare che una donna è riuscita a sfidare la volontà di Reca Moshida! Beh, fuori dalla scuola! Quello non è altro che un patetico fallito! Madonna! È bruttissimo quella cazzo di persona! È un demone sul cesso, niente più! Orson! Ed è aumentato di livello! Sì, anche perché adesso è inutile e non ha veramente senso, sacunda! Riduce la precisione e l'illusione di un nemico per tre turni! Questo non è male all'inizio, soprattutto! Arsène, per adesso, vale la pena aumentarlo perché aumenta forze, magia e agilità! La fortuna, scordatevela, che sia semplice da aumentare con tutte le persone! Ma con Arsène, soprattutto! Ci ho messo un'eternità a portarlo a 99! Oh, merda! E io scappo! Un momento! Perché sei venuta qui, cavolo? Ma soprattutto, come hai fatto? Ehi, è così che ti rivolge una signora? Stai bene, Lady Anne? Lady Anne? Aspetta, e questo cos'è? È vivo? Come fa a parlare? E dove diavolo siamo? Cerca di calmarti! Andrà tutto bene, non ti preoccupare! Come faccio a calmarmi? Eh? Perché sono vestita così? Quando mi sono... Se vuoi ti cambio vestito! Ah, che sta succedendo? Sei uno schianto! Ma che stai dicendo? Che diavolo ha in mente? Beh, sono senza parole! Presto arriverà una squadra di ricerca! Non c'è tempo per le spiegazioni! Mi dispiace, io in realtà non l'avrei mai detto una roba del genere in un contesto del genere! Ma ci stava benissimo! Non abbiamo altra scelta! Dobbiamo ritirarci per ora! Eravamo sul punto di carburare e tu sei dovuta mettere in mezzo! Ah, va bene! Ecco, dammi un braccio! Tu prendi l'altro! E che fanno? La trascinano per le braccia! Almeno di metti la mano sulla spalla! Braccio sulla spalla, santo cielo! Grazie! A quanto pare siamo tornati! Ehi, tutto bene? Beh, più o meno! Aspetta, non è vero! Sono ancora confusa! Ora sei al sicuro! Ma di certo ne sono capitate parecchie laggiù! Ad ogni modo, guidiamo troppo nell'occhio! Spostiamoci in un posto più sicuro! Che bello che è Morgana gatto, però, santo cielo! È bellissimo! Vorrei un gatto così da... In testa! Quale vuoi? Quella non gassata! Lo sono entrambe, in realtà! Allora... Ecco qua! Grazie! A me piace il limone! E per me? Ma tu sei un gatto! Ti sei calmata, Lady Anne? Morgana, giusto? Sto parlando davvero con un gatto! È così strano! Scusami, tu non sei un gatto, vero? È normale che tu sia confusa! Pretende che tu comprenda tutto subito dopo aver patito quell'inferno e chiedere troppo! Onestamente faccio fatica ancora, crede a quello che è successo! E quel potere? La mia persona? La tua volontà di ribellione, Lady Anne! Con essa sarai in grado di combattere nell'altro mondo! Se mi hai detto la verità, possiamo costringere Kamoshida ad avere un risveglio del cuore, giusto? Eh sì! È davvero possibile! Possiamo davvero obbligarlo a confessare i suoi crimini? La scuola di pallavolo tiene la bocca chiusa, mentre gli insegnanti e i genitori fanno finta di niente! Se gente come noi provasse a lamentarsi, ci metterebbero solo a tacere! Puntare su questo piano è l'unica possibilità che abbiamo! Allora lasciate che vi aiuti! Voglio fargliela pagare per quello che ha fatto a Shio! Continua a fare quel che vuole come se niente fosse! Anche dopo che... ciò che le ha fatto! Non lo perdono! Aspetta, hai appena detto lasciate che vi aiuti! Cioè, vuoi che ti portiamo con noi? Non dirlo come se fossi un peso! Non hai visto? Anch'io so combattere! Ehi, che facciamo? La prendiamo con noi, ovviamente! Anch'io concordo! Abbiamo bisogno di nuove leve, dopo tutto! Non preoccuparti, la proteggerò io! Eh già! Anche se diceste di no, ci andrei lo stesso per conto mio e sarebbe più pericoloso, quindi no, vieni con noi! Oh già, può andarsi anche lei da sola! Immagino ci siamo più... ci siano più rischi a non lasciarla venire! Ah, e va bene! Allora è deciso! Beh, spero che andremo d'accordo! Costringerò Kamoshida a fare ammenda per i suoi crimini! Non solo per il bene di Shio, ma per quello di tutti! Non permetterò che altre persone soffrano a casa sua! Eh, quel bastardo senza cuore, eh! Farò qualsiasi cosa! Brava! Percepisco un forte spirito combattivo in Han! Pam 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 pam! Ah, Dio mio! Ogni volta che incontriamo una persona, sempre questo flashback! O questo flashforward! Hmm... Dubito che un gruppo pericoloso quanto il vostro sia stato messo in piedi con metodi ortodossi! Dio mio! Se sapesse effettivamente che gente c'è dentro la squadra! Alcuni di voi potrebbero addirittura nascondere da sempre dietro un volto pubblico! Se mi stai ascoltando, rispondimi! Non è che sono totalmente drogato, ti sto parlando della storia! Io sono te, tu sei me! Hai appena stretto una nuova alleanza! Essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia! Con la nascita di questa persona, gli amanti, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere! Gli amanti è stato sbloccato! Fondo alle persone, bla bla bla! Fatemi sapere quando intendete tornarci! Oh, aspettate! Non ci siamo scambiati i contatti! Ehi, datemi i vostri numeri, i vostri chat ID! E poi... Poi un... cosa? Conto su di voi, allora! Lo stesso vale per te, Morgana! È un piacere tutto mio, Lady Anne! Ciao! Che ragazza dolce! Un riguardo per gli altri davvero ammirevole! E questa purezza nel gettarsi tra le fauci della morte per raggiungere i suoi obiettivi! Tiene molti suoi amici ed è anche bellissima! Che ragazza! Mi ha rapito il cuore! Ehi! Che secondo me... Questa cosa è un po' nascosta però A Ryuji piace Anne ma non c'è mai stato un vero e proprio interesse Fino a un certo punto E anche Anne inizialmente alle medie forse iniziava a provare Poi più avanti effettivamente forse c'è un mezzo ideale ma non è mai specificato In questi tipi di giochi non esiste mai una romance canonica fra nessuno È sempre tutto lasciato in punto di domanda Sai, sarebbe meglio se questo gruppo si incontrasse spesso d'ora in avanti Vero, la miglior soluzione sarebbe avere un ritrovo segreto dove poter discutere di tutte queste cose Un ritrovo eh? L'idea mi stuzzica Il tetto della scuola potrebbe andare Sembra che nessuno salga mai lassù Per il momento è un ritrovo perfetto Non posso contattarvi dall'interno di un palazzo Perciò rimarrò qui in questo mondo A tal proposito, ho bisogno che qualcuno si prenda cura di me Qualcuno si appioppi me Nomino te personalmente, dovresti esserne onorato Cosa? È tutto tuo, non posso tenerlo da me Beh, ora abbiamo un ritrovo Un ritrovo, perciò incontriamoci lì domani Ciao È questo gatto Ok, andiamo a dare un'occhiata alla mia nuova residenza Oh cazzo Il tetto della Shuji mi ritrovo d'ora in poi Grazie Oh, la dottoressa Resta di sopra quando siamo aperti Salve Sì Ehi, lascia stare i clienti Dottoressa, lo scusi se è stato maleducato Nessun problema Avanti Qui hai da solo fastidio Vai di sopra Oh, lei è così carina tra l'altro Grazie Ci vediamo Torni presto Bellissima lei Per oggi è fatta Chi era? Eh? Quella cliente? È il primario della clinica in fondo alla strada Si dice che le sue visite facciano schifo E che venda medicine fatte in casa O almeno così ho sentito Di persona non ci sono stato Dovrebbero lasciarla stare Non è mica d'intraccio alle loro vite Ehi, quanto manca ancora? Però la gente deve sempre rompere i coglioni per qualsiasi cosa Su questo suo giro mi devi dare ragione Bene, devo andare a casa a prendere la cena A preparare la cena Ma che... Che... Cos'è questo posto? Anche lui ci è rimasto di merda È una specie di casa abbandonata Cazzo Ehi, ma che stai? Mi stavo proprio chiedendo perché sentissimi agolare Oh, guardalo che si è tutta accucciata È bellissimo Perché l'hai portato qui? Non ha un posto dove stare È stato abbandonato Mi ha seguito fin qui Mi ha seguito fin qui Non è un problema mio Senti Questo è un ristorante Gli animali non sono ammessi Anche se immagino che potrebbe farti bene avere un animale da accudire So giro Io ti voglio benissimo Perché veramente Chi avrebbe mai accettato una cosa del genere Dopo aver preso in casa un tempista Un tempista Che si porta a casa un gatto randaggio a casa Dio mio Ti voglio bene So giro E va bene Ma fallo stare zitto quando siamo aperti E non farlo scendere di sotto Lo sbatto fuori Oh, e non me ne occuperò io È tua responsabilità Certo Dai Me ne vado Era il padrone di questo posto? Già Sembra piuttosto comprensivo Per uno che ti tiene chiuso in una discarica del genere D'altra parte immagino che per la gente normale Yuko ti ne sembra un gatto qualsiasi Oh Tieni, ti ho portato la cena Sul serio Doveva proprio continuare a megolare con quella vocina tenera Dio mio So giro Vedi di lavare quel piatto A proposito Hai deciso come chiamarlo? Sì Morgana? Speravo di scegliere io il nome So giro Ti voglio bene Ciao Si direbbe che il capo piaccia più io di te E questo è vero Eh sì Eh E a essere onesti Questo posto è un paradiso rispetto alle prigioni di Kamoshida Beh poco ci voleva Ti ricordi quando mi avete chiesto chi fossi davvero? Onestamente non ricordo dove sono nato Temo che le distorsioni del metaverso mi abbiano fatto perdere sia i ricordi che la mia vera forma In realtà sei umano E se fossi un gatto? Te l'ho già detto Sono un autentico umano Se in origine fossi stato un gatto perché dovrei saper parlare? Non avrebbe senso Non c'è dubbio che le distorsioni mi abbiano fatto perdere il mio vero io Sono sicuro che quando verranno debellate potrò finalmente riconquistare la mia identità E ho anche un'idea piuttosto chiara su come riuscirci Per questo mi ritrovavo nel castello Ora che ci penso nell'altro mondo non avevo mai fame Permettimi di chiarire un punto Non dovrei prenderti cura di me per nulla Sarà uno scambio reciproco Grazie alla mia natura sapiente e arguta ho una profonda conoscenza degli strumenti di infiltrazione Sul serio? Calma non posso dirti di più finché non sancieremo un accordo In cambio della tua ospitalità ti studierò su questi strumenti Che te ne pare? Va bene credo Ci sto Mi piace la tua risposta Ehehehe appare fatto allora Pa pam pam pao Tan 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 Di nuovo Tan 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 Ah santo cielo Quante cose in pochi minuti eh Grande abilità dell'infiltrazione ed evadere da ogni luogo C'è anche la possibilità che siate ricorsi a degli strumenti speciali E che qualcuno ve li fabbricasse Ero io a fabbricarli Rispondimi Il bello che lei dà solo una domanda e una risposta secca Io sono tu Io sono te Tu sei me Hai appena stretto una nuova alleanza Essa diverrà le ali della ribellione Capace di spezzare le catene della tua prigionia Con la nascita di questa persona e il mago Mi sono concessi i venti sacri Che condurranno la libertà e a un nuovo potere Pam 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 Strumenti di infiltrazione E vai Ora possiamo fabbricare roba Ti istruirò sugli strumenti di infiltrazione strada facendo A proposito Il potere che hai sfoderato nel palazzo era davvero sbalorditivo Più quel potere diventerà forte Più sarà affidabile come asso nella manica Bene Da oggi in poi verrò con te ovunque andrai Le persone sono forze che sbocciano nel cuore di un individuo Le esperienze di vita che farai influenzeranno anche quel potere Ci scommetto Ho già tutte le statistiche al massimo Morgana Entrando in contatto con persone in gamba Potresti anche riuscire ad apprezzare A prendere abilità utili E questo è vero Questo fa tutto parte del nostro accordo Capito? Pam 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 Mi aspetto grandi cose da te Non deludermi ok? Pam 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 Ah quando uscirai ti accompagnerò Non preoccuparti La compagnia è gratis Pure Certo con la forma di gatto non sarà comodissima Beh non ci si può fare niente Dovrò abituarmi a viaggiare nella tua borsa Tiri biri bim Grazie di tutto Tu mi hai salvato e io non ti ho neanche ringraziato come si deve Non ti preoccupare Dovresti ringraziare oggi Non ti preoccupare Non posso Comunque volevo quantomeno fartelo sapere A domani Voi altri vi scambiate messaggi con quel coso vero? Voglio partecipare anch'io Perciò dovrei digitare al posto mio Quando mai mi chiederai di dire qualcosa Morgana? Senti ma come si fa a vivere in questo posto? Eh è difficile Vorrei pulire effettivamente se fosse possibile Sembra proprio un magazzino Quella scrivania potrebbe essere utile Puoi pulirla anche più tardi Per ora fermiamoci qui e dormiamo un po' Va bene andiamo a dormire Domani sarà una giornata impegnativa Tieni duro ok? Va bene addormentiamoci Sento uno strano peso su tutto il corpo Che sia la minaccia di camo uscita a causarmi questo stress No Direi proprio di no Ed è sabato Io mi sono chiesto Ma andranno a scuola il sabato? A quanto pare si Anche se è molto affollato E questo è quello che vi dicevo Ogni tanto succederà che riusciamo a sederci Anche se è molto affollato Con un po' di fortuna Dovresti riuscire a trovare un posto a sedere Durante il viaggio in treno Abbiamo del tempo libero Chissà se possiamo trarne vantaggio E in realtà sì Ma non ora Perché non abbiamo niente Per cui trarne vantaggio Stai male? Non hai una bella cera? Ultimamente non sto tanto bene Ho una grande confusione in testa E mi sento molto debole Ho provato ogni genere di medicina Ma senza risultato Che abbia contratto un nuovo virus Porca troia Già lo sapevano loro Che sia l'inizio di un raptus Cosa posso fare? Sto per morire Calmati calmati Andiamo in clinica ok? Sono sicura che il medico Saprà prescriverti qualcosa In grado di rimetterti in sesto I medici hanno farmaci più efficaci eh? Ehi Quella cliente delle Blanc Non era un medico? Ti sei raffreddato? Era vestita da punk E allora? Sarebbe utile avere a disposizione Delle buone medicine nel palazzo Ehi giorno Phoenix Cosa ci fai qui? Andiamo a scuola assieme Eeeh E a due passi Ma non importa Beh Quei due metri che dobbiamo farci Li facciamo assieme allora Pam 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 Ehi dopo la scuola ci vediamo al ritrovo giusto? Non scrive ora siamo a lezione Scusa stai veramente ascoltando quelle idiozie? Sì ma oggi sembra che nulla mi rimanga in testa Non dirlo a me Comunque ritrovo dopo la scuola E dove sarebbe questo ritrovo? Al tetto della scuola Ci possiamo ancora andare? Vi faccio entrare io Aspetterò lì Finita la scuola Salite su Ci penso su Ok Multa chi arriva in ritardo Ehi star Tu fa attenzione Presta ascolto quando qualcuno ti parla Questo mi ammazza Schiva Perizia al massimo Stronzo Wow Quella si che è stata una schivata epica Non riesco a credere che abbia schivato un lancio di Ushimaru E' una specie di ninja E tecnicamente la prima volta che fai questo gioco Tu non lo scrivi e te lo becchi qua dritto in faccia No Fa come ti pare Riprendiamo la lezione Oh Hai attirato l'attenzione di tutta la classe Il tuo fascino è decisamente aumentato Beh Queste cose tra l'altro cercherò di saltarle quando Mi dicono che è una cosa aumentata Però anche perché è tutto al massimo Ah stare in classe è anche quello utile Ma ci serve un'abilità per renderlo ancora più utile Ci siamo tutti Ok muoviamoci Un momento è ancora troppo presto per entrare nel palazzo Ma perché Non abbiamo solo Non dobbiamo solo rubare il tesoro Non sottovalutare la pericolosità di quel posto Dobbiamo prepararci Quelle persone che abbiamo non bastano per sbrigare la faccenda Proprio questo intendevo Quando ti dico di non sottovalutare la cosa Lì dentro un errore può essere fatale Come ho detto prima Prima di entrare dobbiamo prepararci E cosa dovremmo fare di preciso? Grazie per la domanda Lady Anne Prima di tutto dobbiamo trovare l'equipaggiamento migliore per tutti Ce l'ho già l'equipaggiamento migliore Morgana Intendi armi? Oh conosco un posto fighissimo In tal caso puoi occupartene tu di quella parte Bisogna anche pensare a fare scorte di medicine Sono indispensabili nei palazzi Medicine? Dove possiamo trovarle? Non preoccuparti Conosco il posto giusto Vedrai Lady Anne Muoviamoci Phoenix Io e te andiamo da fare a Yongen Andiamo a casa? Vieni e basta Da solo non posso avvicinarmi abbastanza Ehi ricordi quella cliente che hai incontrato ieri alle Blanc? Il medico che prescrive farmaci senza visite appropriate Era seduta al tavolo Sì me la ricordo Stavo pensando a una cosa Se è il tipo di dottore su cui girano voci sospette come quella Forse ci aiuterà Si trova nei dintorni giusto? Portami da lei Ok Ti ci porto subitissimo Eccoci qua siamo arrivati Questa è la clinica menzionata dal capo Come possiamo farci dare dei farmaci? Dobbiamo essere sinceri forse dovremmo andarci Inventeremo qualcosa Beh suppongo sia l'unica possibilità che abbiamo Dovremmo improvvisare D'accordo entriamo Salve E' la tua prima visita? Mi sembra di averti già visto da qualche parte Alle Blanc mi sono appena trasferito Perciò di conoscerti Mi sono appena trasferito Beh non importa Allora cosa ti serve oggi? Mi sento a terra Ho avuto degli incubi Ho una malattia cronica Mi sento a terra Va bene Prego Entra in sala visite In casi come il tuo di solito è colpa dello stress Ti prescrivo qualche antidolorifico ok? Oh come non detto Gli ho finiti Allora passiamo ai sonniferi D'altra parte il sonno è la migliore delle medicine Che tipo di pillola preferisci? Quella dolce o quella amara? Una qualsiasi Ne vuoi una puzzolente allora? Scherzo Non esistono pillole simile Ok basta menare il kankabaya Un kankerlaia Sei benissimo non è vero? Non sono tonta come sembro Immagia tu sia qui per quelle voci sul mio conto Che tra l'altro tu non sei tonta Sei uno dei personaggi più fighi di questo cazzo di gioco E ti giuro ti butterei sul lettino Scusami Le voci sono vere? Chi può dirlo? Il risultato è che ora vengono solo pazienti per un secondo fine Immagino che oggi sia dura per i liceali eh? Beh ok Ti prescrivo qualche farmaco Davvero? Ma solo quelli che ti aiuteranno a stare meglio È tutto ok Sembri sincero e hai l'aria di essere un tipo apposto Beh non sono un drogato Sei nel mio studio privato Tutti i farmaci che prescrivo sono originali Ho la licenza per preparare le mie ricette Le avrei viste in vetrina In vendita in diversi ospedali Devi prenderti cura di te stesso Se te la senti puoi passare quando vuoi Mi aiuterebbe molto Sono un pessimo medico Mi aiuterebbe molto Grazie Perfetto Sei uno che capisce al volo Mi risparmi una scocciatura Sei un ragazzo strano Lo sai? Chissà cosa ti servono le medicine Non te lo posso dire Beh non che mi Se non ti metti nei guai Non è un problema Pam 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 Pum pam 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 Per ora non ho altro Ed è vero in realtà Non ha molto altro Anche perché tecnicamente Noi in questo momento Dovremmo avere al massimo 2000 Proprio a dir tanto 2000 yen Questi 9 milioni Forse sono un tantino tanti Usarne i posti sicuri Ripristi al 50% Posso averne 99? Oh perdonami Anche questi I gel Prendiamocene 99 99 Madonna signorina Ti sto rendendo ricchissima Ora puoi chiudere lo studio E andartene in pensione Spendiamo tutto E non spenderemo più avanti Questa è la mia filosofia Anche perché in realtà Tecnicamente Ho fatto una mezza cazzata Ma va bene così Ho 9 milioni di yen Posso permettermelo Appena sblocchiamo Più avanti Il nostro rapporto col medico Abbiamo il 50% di sconto Che io ho già Perché ho finito il gioco Questo in realtà Sai che non so Se forse è già attivo Ma non penso In ogni caso Per una volta Sti cazzi Fa niente Buona fortuna Grazie Scusi Mi levo Qual è il motivo della visita Raffreddore Mal di stomaco Piede dell'atleta Qualunque sia il motivo Devi prendere il numero Smettila Sei l'unica persona Di creare un super stimolante Di creare un super stimolante Una cosa simile Creerebbe solo problemi Alla società Sei davvero insistente Lo sai Sono solo una ciarlatana Forse la polizia Non interverrà Ma sono certo Che la stampa Lo farà presto Vuoi rovinare Di nuovo La mia reputazione Sei una vergogna Per l'intera comunità medica Perché mi guardi così È stata colpa tua Non è vero Non sarò responsabile Delle tue azioni criminali Liberati subito Di quella medicina Dimettiti Il tuo nome Takemi Non sarà mai Ehi C'è qualcuno Cazzo Mi hanno scoperto Accidenti Ci hanno quasi scoperto Pare che parlassero Di qualcosa di pericoloso Forse quella donna Nasconde una medicina Extra forte Dovremmo usarla Sembra sospetta Sono d'accordo Se è forte Potrebbe servicina il palazzo D'accordo Torniamo quando Non c'è quell'uomo Più avanti ovvero Non dobbiamo coinvolgere Strane Manteniamo il segreto Dei ladri fantasma Ok Comunque ottimo lavoro È andata benissimo Hai presente quel negozio Di cui ti ho parlato Quello che vende Repliche di armi È a Shibuya Posso venire con te Se vuoi Non puoi farlo da solo Buona idea Non puoi farlo da solo Dimenticavo Ti sei appena trasferito qui Giusto Dai amico Andiamo insieme Ti faccio fare un giro Sai almeno arrivare Alla stazione di Shibuya Ehi Non ce la faccio Potete controllare voi Per il posto mio Non riesce a venire Non domani Mi sono organizzata Per andare in ospedale Da Shio Capito Tranquilla Ci pensiamo noi Ci vediamo a Shibuya Fionix Ti aspetto di fronte Alla stazione Potremmo mettere le mani Su qualcosa di carino Se vende veramente Repliche di armi Beh Vedremo domani Andiamo a casa In realtà A me non servono Repliche di armi O Le armi più forti possibili Per ora Fila tutto liscio Dopo i preparativa Andiamo al palazzo E' lì che comincia Il vero divertimento Sai Ma io posso pulire Un po' In sta stanza Sembra proprio Un magazzino Quando avremo trovato Il modo di preoccuparci Puliremo la stanza Ah beh Certo Iniziamo a preoccuparci Delle armi Poi sistemiamo Dai Intanto dormiamo In mezzo alla polvere E via Si va a dormire E così ce l'hai fatta Il negozio è a Central Street Per arrivarci Dobbiamo attraversare L'incrocio di Shibuya L'incrocio Usiamo il sottopassaggio Va bene L'incrocio E' così che chiamiamo L'incrocio di Shibuya E' enorme Con persone che attraversano Da ogni direzione Superato quello Saremo a due passi Da Central Street Ok Andiamo Chissà se poi E' veramente Esattamente così Poi Shibuya Cioè nel senso Ah il politico Aprite gli occhi Questo paese è corrotto Anche se la società giapponese Sembra fiorire Molti giovani Non sono fortunati Come i loro genitori Non hanno lavoro Se ne risparmi Ne alcuna sicurezza economica Anche in Italia Signore Questi giovani Dovrebbero affrontare Il loro futuro Ma invece Si limitano a sopravvivere E' pieno di gente Che fa discorsi E poi la politica E' noiosa Ah Ryuji Quanto sei piccolo Nella tua mentalità Quell'uomo E' un bravo uomo Credimi Un giorno andremo A Shibubu Seguimi Il negozio è un po' difficile Da trovare Non è vero E' solo nascosto Dietro un angolo E' facilissimo Ehi di qua Se mi facevi arrivare Ci andavo Eccoci Figata Sembra un po' Stolosco Mi piace Oh Sei appassionato Di robe militari Si Ad ogni modo Diamo un'occhiata All'interno In realtà Non so se potremmo Entrare Nella realtà Però Ah già Prima di entrare Tu te ne intendi Di armi e roba simile Immagino che ci basti Chiedere al tizio Dietro il bancone Se non riusciamo A deciderci Forza Diamoci dentro In realtà Me la so cavare Il negozio di Softair E' sbloccato velocemente Ehi la Salve Sono venuto ad acquistare Armi di distruzione Cosa? Ha Ti sei chiarito le idee Ti serve un consiglio Non saprei Compra ciò che ti sembra interessante Che bella assistenza E va bene Cosa preferisci Un'automatica Un revolver Un'automatica Ehi perché diamine Parli di automobili Madonna Quanto sei stupido Senti Questo è un negozio Per appassionati Ai clienti Ti darà fastidio Vedi novellini in giro Non sono un novellino La settimana scorsa Sono venuto a comprare qui Beh Non mi ricordo di te Bastardo E tu Cerchi qualcosa Un modello vistoso Qualcosa che sembri vero Un modello vistoso Oh Sei un collezionista Oh Sei molto più interessante Del biondino Tappati la bocca Comunque Avreste dovuto dirmi subito Che siete appassionati Mi fa piacere aiutare I nuovi clienti Ecco qualche utile consiglio Non puntate mai verso la gente Quando siete in giro Tenetele in borsa E non lasciate che gli sbiri Scoprono che ne avete una Non voglio averli tra i piedi Saremo attenti L'ho promesso Lo sappiamo già Odiamo i polizzotti Staremo attenti Sarà meglio che lo siate Ecco Osservando attentamente Si nota che se Che sono modellini Le armi veri sono Diverse Forse un giorno Vi mostrerò la merce seria Se avrete abbastanza coraggio Per gestirla Cinque di coraggio Per ora dovreste accontentarvi Della merce per principianti Un attimo Vado a prenderla Vediamo se posso anche vendere Ce l'abbiamo fatta Sceglieremo qualcosa di assurdo Vero? Voglio roba che spacchi Oh ecco i soldi Per la mia Scegli bene Mi raccomando In realtà non so se Cioè Forse posso non comprare niente Speriamo Sarebbe interessante Non farlo Uh posso vendere Finalmente Tipo equipaggiamento Vabbè certo Come no Ecco fatto Oh già C'è una cosa che dovresti sapere Non compro replica dagli altri Tienilo ben a mente Non voglio ritrovarmi Ad avere seccature Con armi già modificate E questo è quanto Grazie a Ryuji Dei 5000 yen Che mi hai dato Alla fine me li tengo Anche perché Ti ho già dato la roba E a proposito di equipaggiamento Dobbiamo ancora cambiare La maglietta a Ryuji E mettergli Questa qua Il patto tantrico Mentre a Dan Gli mettiamo l'armatura Di Sirio X Inoltre a Dan Come accessorio Appunto Gli diamo anche a lei Dove sei? Il teschio di cristallo Così si becca Altre sei A tutte le statistiche E soprattutto Gli cambiamo Anche l'arma Quindi Beccati la grande frusta Del Naraka Che tra l'altro Vendendo la mia roba Sono ritornato A 9 milioni Settecentomila Quindi quello che ho speso In medicina L'ho appena recuperato In vestiti venduti Vuoi già tornare a casa? Comunque dovrai scegliere tu Per da adesso in poi Trova quello che ti sembra Più forte Ma io non vorrei Tornarmene a casa Vorrei comprare della roba Sono a Shibuya Affare Sono venuto solo a comprare Capo Ha sentito? Dicono che il conducente Di quella metro Si sia comportato In modo stranissimo Durante la deposizione Si riferisce A quei raptus O come si chiamano Di cui parlano Tutti continuamente Sì Ho sentito che Alterano completamente La personalità I notiziari Dicono che il conducente Non riusciva Nemmeno a rispondere Alle domande Solo un idiota Crederebbe Una storia così assurda Oh Mi spiace Ma stiamo per chiudere Ah Come scortese Deve sempre questo Che non ha molti clienti Il suo caffè In realtà Non è niente male Ma i suoi chicchi Lamentano la tristezza Di questo locale Madonna mia Grazie per la visita Torni presto Cerco solo di aiutarla A migliorare A migliorare La sua attività Beh Grazie per il caffè Quanto meno Accidenti Che piaga Oh Tu che vuoi Se ti annoi Va a lavare qualche piatto Come vanno gli affari Tratti così Tutti i clienti Come fai ad avere Dei clienti Come vanno gli affari Non sono affatti i tuoi Finché il locale Non fallisce Va bene così Non sono il tipo Che sorride Per far piacere agli altri E questo è giusto Cioè nel senso Meglio essere se stessi Piuttosto che fingere È un tuo motto E se dovesse fallire Chi lo sa Magari finirò A vivere per strada Finché sono qui Il mondo mi lascia in pace Niente seccatori E problemi Da affrontare È il mio Nascondiglio personale Probabilmente Sarai rovinato Se lo perdessi Ma immagino Che varrebbe lo stesso Per te Perciò ti conviene Quanto meno Cercare di renderti utile Comunque Me ne vado Non combinare guai Va bene Grazie Suo giro Posso pulire Morgana oggi? Sono andata in ospedale A trovare Shio Come stava Le condizioni Sono stabili Però non sanno Quando riprenderà Conoscenza Di certo Si riprenderà Si Si riprenderà Lo so Ho fiducia in lei Ma non perdonerò mai Kamushida Pagherà per quello Che ha fatto Bene Siamo quasi pronti Per entrare nel palazzo Dobbiamo solo procedere Produrre degli strumenti Di infiltrazione Ripulisci quella scrivania Così potremmo usarla Va bene Puliamo la scrivania E facciamo qualche strumento Quella scrivania Su Datti da fare Puliscila Puliamola Ottimo Adesso puoi metterti A costruire ogni volta Che vuoi Ora puoi creare Stumenti di infiltrazione Posso già farlo Perfetto Stavolta ti darò Ii materiali Prova a fabbricare Un grimaldello O il grimaldello Duraturo Cioè nel senso Non starci a pensare troppo Ti abituerai con la pratica Ma io davvero Devo mettermi a fare Oh cacchio Non posso fare nient'altro Effettivamente Perché mi hanno rubato Mi hanno tolto tutto Oh cavolo Questa cosa L'avevo dimenticata Va bene Abbiamo detto Un grimaldello Facciamo un grimaldello Allora Vai Un grimaldello Ottimo Dovremmo poterlo usare Yes La mia perizia Mentata Al massimo Dovremmo essere pronti Domani Entreremo nel palazzo Andiamo a letto Va bene Pamparam Buongiorno Avanti in classe Alla svelta Buongiorno Buongiorno Comportamento impeccabile Ma non ti servirà nulla Dopo Che Ti avremo espulso Dalla scuola Fezzo di merda Bene Bene Con questo abbiamo finito Stalkoon Posso parlarti Per favore Vuole rimproverarmi Per Kamoshida C'è qualcosa Che vorrei chiederti Non ci vorrà Molto Oh Buongiorno Vedo che ti sei attivata Per il problema Di cui ti ho parlato Stamattina Kawakami Ti ringrazio Grazie di nuovo Oh Lo conosci Yoshizawa Sì Mi ha aiutato L'altro giorno Ti consiglio Di tenerti alla larga Da tipi come lui Se hai un minimo Di riguardo Per il tuo futuro Ricordi la nostra Discussione Ci sono studenti Qui Con cui Non ti conviene In mischiarti E questo qui È la cima Della lista Pezzo di merda Io ti sputo Oh Il nuovo Studente delinquente Scusa Se ti interrompo Ma ho bisogno Di usare L'ufficio Del consulente Oh Scusami Meglio se Andiamo anche noi Non vogliamo Disturbarti Mentre fai consulenza A questo delinquente Figlio Io ti ammazzo Vogliate scusarmi Che brava Che è lei Dopo di te Amma mia Mi dispiace Con Wakami Veramente Andrò dritto al punto È successo qualcosa Tra il prof Kamoshida Per niente Non me la bevo Specialmente Dopo lo scambio Di poco fa Abbiamo avuto Una breve discussione Stamani Ed è uscito Il tuo nome Qualcosa riguardo Ai rischi Della mancanza Di supervisione Non voglio Impicciarmi Ma Cerca solo Di non creare Problemi Ok Un'altra cosa Quella ragazza Lì fuori Non l'hai fatto Delle avance Vero Certo che no Non so Beh sono interessato Aveva un foco Grazioso Il prof Kamoshida Ti sta tenendo D'occhio Pare che tu Abbia già fatto Con Combricola Con Sakamoto E a quanto pare Conosci anche Yoshizawa San Magari sei Spontaneamente Attratto dagli Sportivi Può essere Scusa Pessima battuta Beh Non volevo Discutere D'altro Puoi andare Scusa Kamoshida Kamoshida E Il cancello Della scuola Stamattina Era in piedi Che mi guardava Con quel sorrisetto Di merda In faccia Probabilmente Ti stava Prendendo in giro Maledetto Però Vederlo Così Mi ha Motivato Ancora Di più Dobbiamo Farcela A qualunque Costo Già Sono preoccupata Per Shio Ma voglio concentrarmi anche sul nostro piano e questa volta non mi stancherò così facilmente il consiglio si riunisce il 2 maggio, giusto? dobbiamo risolvere la cosa prima di allora sono pronto, ormai ho deciso anche io anche io, farò del mio meglio non fate nulla senza di me, ok? già, vedete di avvisarmi quando entrete nel palazzo scusate è finito nei guai il primo giorno di scuola quei tipi saranno espulsi nessuno vuole pianta grana a scuola tutti hanno grandi aspettative verso la nuova ragazza Yoshijawa-chan maledizione, è perfetta chissà se ho qualche chance con lei non credo pezzente finalmente è il momento di seguire il piano scommetto che gli altri sono pronti per muoversi bene, lasciate la pianificazione va bene mission start palazzo? d'accordo, Ryuji grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti